Come potete vedere oggi andremo a parlare della Magician X di Mingda Non abbiamo avuto diciamo un bell'inizio io e questo brand però secondo me questo prodotto potrebbe essere un bel passo in avanti quindi onestamente sono veramente super curioso di provarlo Ma come sempre prima di andare al video, sigla! Nonostante i problemi avuti con diciamo l'AD2 a lato pratico diciamo che l'assistenza per l'appunto Mingda è sempre stata molto disponibile quindi oltre a ringraziarli per avermi dato la possibilità di provarla ovviamente li ringrazio anche comunque per avere una buona comunicazione perlomeno con me spero anche con i clienti ma soprattutto io ci tengo a ringraziare voi da casa che mi seguite sempre nelle mie avventure e quant'altro e come al solito il mio invito è sempre quello di lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale se ancora non l'aveste già fatto spuntando la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità oltre che ovviamente supportare il canale, la sua crescita e quant'altro io vi ringrazio davvero un sacco quindi andiamo a vedere un po' cosa c'è dentro questa confezione polistirolo onestamente è la prima stampante che mi mandano non quelle diciamo giocattolo che c'è polistirolo a proteggere il tutto forse è per questo che è enorme la scatola comunque andiamo a togliere questo gigantesco pezzo uh sembra veramente tanta roba qui troviamo manualetto, chiave inglese, SD, chiave a brugola con questo porta brugole e poi le viti di montaggio che sembrano veramente pochissime il fatto che siano così poche mi fa ben sperare che sia una stampante praticamente pronta all'uso e comunque dopo lo vedremo filetto, nozzle e un pezzettino di tubetto in PTFE poi abbiamo cavo di alimentazione classico IEC porta bobina molto probabilmente già montato e poi uno sportellino dopo lo andremo a vedere questo lo leviamo un attimo urca è veramente bella piazzata qui c'è una vite dispersa tiriamo via da qui un'altra vite dispersa la metto qui dentro almeno non la perdiamo lo chassis è tutto in plastica ma sembra veramente ben fatto quindi come prima cosa andiamo a liberare il cavo questo anzi questo enorme cavo del piatto il coperchietto che vi dicevo prima in realtà va messo qui letteralmente e abbiamo uno scompartimento che può far comodo per metterci qualcosa dopodiché in modo veramente super semplice in teoria dovremo inserire nelle sue guide le estrusioni in alluminio del carrello e praticamente è già montata basta avvitare le viti ed è pronta quindi andiamo a prendere le viti che ci sono qua dentro andiamo a mettere una qui l'altra qui andiamo ad avvitare non andiamo ad avvitarle del tutto perché prima dobbiamo andare a mettere quelle di sotto poi andremo a prendere queste due lunghe e andiamo ad inserire qui e qui facciamo la stessa cosa per questa di sotto e possiamo riprendere ad avvitare queste qui laterali ok e adesso andiamo a collegare tutti i cavi che sono in realtà veramente veramente pochi quindi questo di uno di due assi z qui dentro c'è finito un po' di polistirolo mi raccomando pulitelo bene ecco da dove venivano le vitine incriminate non appena acquistate una stampante verificate sempre queste cose che tutto deve essere stabile e al suo posto quindi verificate sempre molto bene ok ora è ben fissato però va ovviamente tesa questa cinghia perché come potete vedere è completamente molla prendiamo anche questo cablaggio e lo assicuriamo con le sue due viti come potete vedere il piatto balla veramente fortissimo è una cosa perfettamente risolvibile è normale e questo non è un problema ma prima attacchiamo il carrello colleghiamo questo poi qui c'ha il suo aggancino per evitare che poi dopo si muova questo poi dopo lo andremo a ricollegare e poi andiamo a collegare il connettore del motore dell'asse X adesso noi dobbiamo andare ad operare su quei due dadi che si chiamano dadi eccentrici andiamo a prendere la sua chiavetta qui integrata penso sia quella da 10 e andiamo a stringere gli eccentrici al fine di avere il piano effettivamente stabile ok una volta finiti di regolare entrambi gli eccentrici come potete vedere adesso è stabile onestamente che il carrello dell'asse Y sia in plastica non mi convince più di tanto fondamentalmente per un motivo termico e soprattutto di stabilità barra flessibilità che ovviamente un piatto non dovrebbe avere ma ovviamente prima di tirare conclusioni affrettate voglio provarla ovviamente prima di proseguire verifichiamo che tutte le cinghie siano ovviamente tese come ad esempio questa dell'asse Y come potete vedere è troppo molle adesso con il suo 10 di cinghia integrato andremo a stringere un po' e come potete vedere adesso è forse anche un po' troppo tesa ecco così può andare stessa cosa l'avremmo dovuta fare con la cinghia dell'asse X ma questa qui va piuttosto bene e in ogni caso anche qui ha il suo pomellino per la regolazione della tensione detto ciò ultimo pezzo da montare ovvero il porta bobina io lo andrò a montare qui così e si va a bloccare una volta tolto il coperchietto come potete vedere troviamo una e due ventole blower quelle che vanno a raffreddare il filamento appena estruso qui troviamo questo estrusore direct drive e soprattutto dual drive tipo BMG veramente cosa ottima questa parte qui è in metallo aumenta la dissipazione di tutto questo blocco cosa molto carina è che monta dei nozzle V6 quindi top e come potete vedere qui troviamo altre due serie di connettori come potete vedere uno da 4 e uno da 5 questa invece è una cella di carico e ora vi spiego un attimino come funziona le celle di carico non sarebbero altro che dei sensori capaci di misurare la quantità di peso o comunque di forza tra due punti quindi un punto che in questo caso è il carrello e l'altro punto è tutto il blocco o tend e voi mi chiederete a che cosa serve questa è una funzione molto comoda e sulla carta anche molto interessante come cosa ma non l'ho mai provata quindi lo andremo a vedere oggi insieme e praticamente gli serve per capire quando il nozzle va a toccare con il piatto quindi la rimonto un secondo la collego ci faccio due prove e ci rivediamo tra poco per le considerazioni finali ok ho avuto modo di provare un pochino questa stampante quindi vediamo un po' di tirare le somme partendo un po' dalle specifiche tecniche effettive ci troviamo davanti ad una macchina dotata di un volume di stampa pari a 230x230x260 mm di altezza il piano riscaldato è dotato di un vetro microporoso stile ultra base di ottima qualità l'adesione delle stampe è veramente buona anche se non ho apprezzato moltissimo la sua lentezza nel riscaldamento la movimentazione lineare è garantita da classiche guide su profili in alluminio V-slot e pulegge cuscinettate dotate per fortuna di dadi eccentrici per la regolazione gli assi X e Y sono dotati di tendi cinghia integrati e sull'asse Z troviamo due viti trapezie e relativi motori sincronizzati con una cinghia sulla parte superiore il carrello dell'estrusore è uno dei migliori della sua categoria direct drive tipo BMG quindi con doppio ingranaggio comunque da loro personalizzato secondo me in maniera anche abbastanza buona comunque è stabile non ho visto particolari problematiche e tutte le componenti sono collegate alla diciamo ad una schedina che c'è sopra tramite connettori comunque facilmente sostituibili inoltre troviamo una doppia ventola per il raffreddamento del materiale appena estruso sensore di fine filamento e sonda di autolivellamento a cella di carico se per il carrello dell'asse X sono rimasto positivamente colpito un po' meno per quello dell'asse Y per quanto tutto sommato sia ben fatto resto dell'idea che un carrello inferiore debba essere di materiale metallico anziché di plastica comunque per garantire rigidità al tutto nonostante questo però stranamente riesce comunque a funzionare bene ma di questo ne riparleremo a breve davanti oltre ad un display di quasi sicuramente di casa Big 3 Tech o comunque un derivato troviamo la porta USB ESD per la stampa e a sorpresa la USB-D tipo C per la comunicazione con la stampante per quanto riguarda la scheda madre proprietaria monta un chip a 32 bit Cortex M4 e degli stepper driver TMC di Trinamic sfortunatamente saldati ma ciò nonostante offrono come sempre un'ottima silenziosità del tutto oltre ai driver anche tutte le altre ventole sono decisamente buone il che rendono la stampante globalmente molto silenziosa una piccola chicca che troviamo sul case è lo sportellino porta oggetti è una piccolezza ma è comodo per riporre attrezzi o simili ma se proprio vogliamo trovare pelone uovo non potrete aprirlo in fase di stampa quindi pensate bene a cosa deve stare dentro e fuori un'altra piccolezza la troviamo sulla destra del case ovvero un pratico porta SD l'assemblaggio comunque è veramente super semplice letteralmente si infila la struttura verticale in quella orizzontale si stringono sei viti e dopo aver collegato i pochi cablaggi il gioco è fatto una volta montata ho sfruttato subito il suo sistema di autolivellamento del piano come vi dicevo grazie alla cella di carico va a creare una mesh su una griglia 4x4 usando il sistema bilineare quindi non solo vi livella il piano effettivamente ma sopperisce anche alle imperfezioni della planarità dello stesso il vantaggio di utilizzare una cella di carico per questa operazione è che ovviamente non ha bisogno di altre sonde semplicemente la stampante si accorgerà quando il nozzle va a toccare il piano e dopo imposterete quanto stare tra virgolette lontano dal piatto dai punti appena presi grazie alla funzione di baby step che comunque potrete eseguire alla prima stampa in sostanza qui starete definendo quanto il primo strato deve essere schiacciato ovviamente questa funzione andrà fatta col nozzle pulito la stampante un po' come mi potrei aspettare da specifiche simili funziona decisamente bene mi ha permesso di stampare degli ottimi modelli senza comunque stare ad ammattire ho seguito i profili e il manuale in italiano presente sulla SD non ho fatto calibrazioni o impostazioni particolari quindi è abbastanza nuda e crude unica cosa che ho rimosso è il raft che su un piatto del genere trovo abbastanza superfluo sfortunatamente la community di questa stampante non è così sviluppata però la base mi sembra decisamente valida soprattutto per qualcuno che si vuole approcciare alla stampa 3D detto ciò si posiziona a poco più di 300 euro sui vari store e 50-100 euro in più su Amazon in base alle offerte poi in realtà quella che mi hanno mandato ho scoperto essere la Magician X diciamo versione 2 quindi dotata di un carrello e estrusore migliorato ed effettivamente come vi dicevo è veramente buono per quello che costa penso che siano soldi ben spesi è una stampante che out of box non mi ha dato rogne ed è stato veramente molto semplice fare le prime stampe però effettivamente gli si può richiedere anche qualcosa di più complesso insomma per me nonostante qualche piccolo dubbio o difettuccio tutto sommato risolvibile con poco sono molto soddisfatto di questa stampante brava Mingda che mi ha fatto ritornare sui miei passi quindi niente ragazzi io penso di avervi detto tutto mi raccomando se aveste come sempre dei dubbi oppure osservazioni da fare qui sotto nei commenti e insomma il video di oggi finisce qui spero tanto che vi sia piaciuto mi raccomando se così fosse lasciate un grande mi piace scrivetevi commentate mi fa sempre un sacco piacere e ci rivediamo ad un prossimo video